Ciao a tutti, io sono Maurizio e vi do il benvenuto su Audiofilando, il canale dedicato a tutti gli amanti del vero ascolto. Grazie ad iFi di Prinzio che ce le ha inviate, ci ha permesso di ascoltarle e di farvele conoscere, abbiamo il piacere oggi di presentarvi una bellissima e importante coppia di diffusori da stand. Vogliamo in Francia per scoprire insieme le bellissime triangle signature theta. Mi perdonerete, spero, se il mio francese nella pronuncia del marchio non sia perfetto. Prima di iniziare vi invito come sempre a mettere il pollicione su a questo video, iscrivervi ad Audiofilando e condividere i nostri contenuti. Contiamo su di voi per continuare a crescere. Si tratta della prima volta che abbiamo a che fare con questo prestigioso marchio transalpino, la Triangle. Si tratta di un produttore di diffusori iFi di assoluto livello e quindi iniziamo con un po' di storia di questo brand. Nasce nel 1980 a Suasson, dove risiede tuttora. Il primo modello commercializzato è stato il diffusore da pavimento 1180, seguito nel 1981 dal CX2. Si tratta di un diffusore molto originale perché è il primo diffusore di questo brand ad avere il tweeter assemblato all'esterno del cabinet principale. È uno di quei produttori che progetta internamente tutto quello che è montato all'interno dei propri diffusori. Sto parlando anche dei trasduttori, quindi definendo in toto il suono di questi diffusori. Torniamo ora nello specifico ai diffusori in prova. Si tratta del modello da stand della linea Signature. Questa serie rappresenta quasi il top della produzione Triangle. Al di sopra di essa esiste solo la serie Magellan. Da notare che la serie Signature è prodotta e realizzata, fabbricata, collaudata interamente in Francia. Anche oggi mi sa che vi risparmio le immagini dell'unboxing. Questi diffusori sono molto voluminosi, ingombranti e quindi sarebbe raccomandabile che il disimballo venisse fatto da due persone. Sono spedite in due differenti box, uno per diffusore. L'imballo è molto solido, devo dire, e ciascun diffusore è avvolto in una bellissima sacca morbida per preservarne la laccatura. Ok, siamo pronti per dare uno sguardo più da vicino a questi bellissimi diffusori. No, non sono diventato un mimo. Questi sono i guanti compresi all'interno della confezione delle Triangle Teta. Tutte, tutte le volte che mi trovo a fare un unboxing di un oggetto laccato piuttosto che lucido, mi trovo a dire, cavolo, lascio tutte le ditate sopra la laccatura. E invece no. La Triangle, invece, ha pensato di lasciare, ha avuto l'ottima idea di lasciare questi guanti con un ottimo grip e soprattutto antiditata all'interno della confezione, in modo da permetterci di maldeggiare questi voluminosi diffusori in sicurezza e pulizia. Allora, diamo uno sguardo a questi diffusori. Abbiamo il logo Triangle sulla copertura fonotrasparente che, andando a rimuovere, scopriamo essere magnetica, con i magneti che si vanno a inserire nei fori di fissaggio del woofer. Si tratta di un classico due vie con bass reflex frontale. Il tweeter ha la particolarità di essere caricata tromba. Vedete questa particolare forma del cono che racchiude il tweeter. Che dire, sono veramente molto belle ed impatto. Lascerò alla gente 00waf parlare meglio delle finiture che comunque sono veramente belle. A proposito di estetica e dimensioni, vi volevo far vedere come appaiono lateralmente e l'ingombro veramente notevole di questo diffusore. Bellissima questa finitura. Diamo uno sguardo anche al lato B dei diffusori, in cui spicca questa targhetta con marca, modello e l'orgogliosa scritta di essere stata realizzata a mano in Francia. Diffusori predisposti per il B-Wiring. Quando li tirerete fuori dall'imballo, troverete questi ponticelli montati tra ingresso superiore e inferiore. Devo dire che, come potete forse vedere, l'occhiello è chiuso e quindi per rimuovere i ponticelli occorre svitare completamente il connettore. Non propriamente comodo, ma quantomeno garantisce un contatto elettrico ottimale. Targhetta inferiore con l'indicazione della impedenza nominale di diffusori che è di 8 ohm, la massima potenza gestibile da questi diffusori in sicurezza che è 90 watt e il serial number. Scendiamo ora più nel dettaglio tecnico vedendo insieme alcune caratteristiche di questo diffusore. Si tratta di un classico sistema a due vie con caricamento reflex. Il tweeter è in titanio ed è caricato a tromba, mentre il midwoofer è un cono a 160 mm. La loro impedenza nominale è di 8 ohm, ma viene dichiarato anche il valore minimo di impedenza a cui questi diffusori possono scendere, che è di 4,4 ohm. La risposta in frequenza di questi diffusori è dichiarata tra i 45 hertz e i 20 kilohertz nel classico intervallo dei più o meno 3 dB. La sensibilità di questi diffusori è piuttosto elevata ed è pari a 90 dB. Sono diffusori molto importanti come abbiamo visto. Le dimensioni sono infatti di 465 mm x 233 x 372 di profondità. Il peso anch'esso abbastanza elevato è di 11,5 kg per ciascun diffusore. Possiamo arrivare ora alle mie personali impressioni d'ascolto su questo diffusore. Abbiamo ascoltato queste bellissime Signature Theta collegate sia al poderoso amplificatore integrato Vitus Audio RI101 Mark II, sia al bellissimo ed elegante amplificatore valvolare Synthesis Roma 510 AC. Si tratta di casse piuttosto efficienti e quindi hanno permesso all'amplificatore valvolare di esprimersi al meglio. Vi lascio qui sopra il link alla prova d'ascolto per chi fosse interessato. Partiamo dalle basse frequenze e vi devo dire che per questo diffusore sono molto molto importanti. Ascoltandoli ad occhi chiusi sembra di essere al cospetto dell'estensione in gamma bassa tipica di un diffusore da pavimento di medie dimensioni. Ottime davvero quindi da questo punto di vista questa copia di Bookshelf. Veniamo ora ai medio alti. Diciamo devo premettere che non sono per gusto personale un amante del caricamento a tromba per quanto riguarda i Twitter. Questo perché ritengo, ripeto personalmente, che il risultato finale sia un po' invasivo per quanto riguarda i medio alti. Bene, devo dirvi che da questo punto di vista questo diffusore mi ha stupito. Infatti l'ascolto è risultato gradevolissimo anche dopo lunghe sessioni d'ascolto collegate sia allo stato solido che al valvolare. Anche la scena sonora era perfettamente ricostruita e i diffusori mi davano la gradevolissima, che apprezzo molto, impressione di sparire all'interno dell'ambiente d'ascolto. Quindi in definitiva si tratta di ottimi diffusori dal punto di vista sonoro e anche ben costruiti. Quindi a tal proposito lascio la parola a Elena. Allora, come di consueto pagella WAF anche per queste triangle, credo si dica così perché la casa è francese, allora a me piacciono veramente molto. Mi piace tantissimo la laccatura, qui abbiamo la finitura mogano, le altre finiture sono il bianco lucido e il nero lucido, sempre molto belle, la laccatura è veramente ben fatta e tra l'altro denota è una grandissima cura dei particolari, il fatto che abbiano inserito all'interno della scatola dei guanti per poterle maneggiare, insomma, très chic. Che dire su materiali e cura dei dettagli? Sicuramente molto curati, molto molto buoni i materiali, sono veramente di alta qualità. Devo dire che non mi fa proprio stravedere questo effetto dietro di questo scatolotto di plastica per l'alloggiamento dei connettori. Ho visto soluzioni più ricercate con materiali un po' più pregiati. Parlando del design, allora bisogna dire che un po' questo Twitter messo in questa posizione, con questo design, non so, a me ricorda un po' le BMW. In ogni caso mi piace molto, ovviamente, ha un bel impatto visivo all'interno della stanza, tra l'altro le dimensioni sono molto particolari perché di fatto sul fronte sembra un qualunque diffusore da scaffale, invece la profondità è molto più accentuata dei normali diffusori che abbiamo visto in questo periodo su Audio Filando. Tenete conto, più o meno per darvi un termine di paragone, che è profonda come le nostre olimpica, che comunque sono delle casse da pavimento, mentre invece sul fronte mantiene delle dimensioni proporzionate come il resto dei diffusori da scaffale. Bello il pannello fonotrasparente sul fronte, si inserisce sia a calamita, come avete visto faccio un po' fatica a tirarlo via, sia a calamita ma anche con questi fori per l'inserimento. Devo dire, mi piace molto, anche senza il pannello, ma voi lo sapete, a me i diffusori piacciono sempre di più senza il pannello che con, perché i coni io li trovo molto belli. In ogni caso è molto ben sagomato il pannello, vedete l'alloggiamento per il Twitter, insomma un diffusore davvero curato, mi piace molto e bravi i francesi. Bene, mi sento quindi di consigliare questo diffusore. Elegante e ottimamente suonante sia con uno stato solido che con un amplificatore valvolare. Anzi, mi pare di poter dire che il matrimonio con l'amplificazione valvolare sia particolarmente riuscito. Vi consiglio quindi di andarle ad ascoltare da Hi-Fi di Prinzio, anche in virtù del fatto che con i loro 2.900 euro di listino rappresentano, a mio modo di vedere, un ottimo rapporto qualità-prezzo. Sicuramente poi, se andrete da Hi-Fi di Prinzio, chiederete di Luciano e direte che vi manda audiofilando, il rapporto qualità-prezzo non potrà far altro che crescere. Vi chiedo a questo punto di lasciare qui sotto le vostre impressioni su questi diffusori. Li avete già ascoltati? Collegati a che cosa? E quali sono state le vostre impressioni ascoltandole? Bene, non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!